questa avventura scarabeo gigante unico no rinoceronte guardate quante grandi dai non fa finta di essere morto i bambini stanno girando in una fortuna che gira uno è cascato uno invece se ne è impiegato sull'albero è nata una sestata uno è appena cascato da calma uno sta salendo con il quad non si muove vivo eh eccolo ecco porca miseria è cascato no vi vorrei se non sei uccidendo